Un minorenne è stato arrestato dalle volanti di Reggio Calabria essendo ritenuto responsabile di una rapina subita prima per strada nella serata di mercoledì scorso 27 luglio da due fratelli, anche loro minori, e successivamente nell'abitazione di quest'ultimi. Secondo gli investigatori, il giovane dopo aver minacciato le vittime si sarebbe possessato dei telefoni cellulari e delle scarpe sportive che indossava uno dei due. Il presunto rapinatore poi avrebbe costretto i giovani a portarlo a casa loro dove sotto la minaccia di un coltello si sarebbe fatto consegnare dai nonni 100 euro in contanti. La polizia ha iniziato subito la ricerca per identificare il presunto autore e con le indicazioni fornite dalle vittime e dalle visioni delle immagini del sistema di videosorveglianza sono giunti al giovane arrestato che perquisito è stato trovato in possesso della refurtiva poi riconsegnata. Gli agenti hanno anche rinvenuto e sequestrato un coltello che si presume possa essere stato utilizzato per minacciare le vittime. L'arresto è stato comunicato all'autorità giudiziaria che ha disposto a carico i domiciliari.